Operazioni antiterrorismo scoperto una rete neonazista, quattro gli arresti tra Napoli, Caserta e Avellino, tra gli obiettivi la caserma dei carabinieri di Marigliano e un centro commerciale di Nola. Le indagini sono state coordinate dai PM Antonello Ardituro e Claudio Norati con il procuratore Giovanni Melillo. La Polizia di Stato di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha eseguito un'operazione antiterrorismo condotta dalla Digos e dalla Direzione Generale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Polizia Postale e Comunicazioni con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un'associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista tra le province di Napoli, Caserta e Avellino. L'ordinanza ha portato in carcere Maurizio Amendola, Michele Rinaldi, Massimiliano Mariano e Giampiero Tessa. Quest'ultimo si era avvicinato pericolosamente ai gruppi nazionalisti di estrema destra ucraini. La misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è stata emessa nei confronti di Fabio Colarossi, romano di 36 anni, che deve difendersi dall'accusa di propaganda di ideali neonazisti. Indagato anche un cittadino ucraino legato all'estrema destra che risulta rientrato nel suo paese d'origine. Ascoltiamo i dettagli dell'operazione dal primo dirigente della Polizia di Stato, Digo Santonio Bocelli. Dalle intercettazioni è emersa la dichiarata volontà da parte degli indagati di compiere delle azioni violente sia nei confronti di civili sia nei confronti di una caserma dei carabinieri. Però si tratta soltanto della volontà dichiarata perché non è mai stata seguita da alcuna condotta attiva che facesse pensare che realmente stavano organizzando un attentato o un'azione violenta. Sicuramente non si tratta di una cellula isolata nel senso che loro hanno fatto l'associazione in argomento si chiama Ordine di Agal e hanno fatto una grande propaganda utilizzando i social, in particolar modo Telegram, in particolar modo un canale Telegram denominato Protocollo 4, i cui associati iscritti diciamo erano molteplici e noi ne abbiamo già identificati una buona parte. Considerate però che noi in giornata abbiamo ancora in corso quasi una trentina di perquisizioni in tutta Italia e sicuramente dalle perquisizioni informatiche potrebbe uscire qualcosa di nuovo e di più interessante.